Prenderà il via sabato 29 novembre con l'accensione dell'albero in piazza 20 settembre e l'apertura del tradizionale mercatino il Natale in città 2014. Musica, teatro, cultura, mostre, sport e solidarietà accompagneranno i pordenonesi e i loro ospiti fino al 13 gennaio per vivere assieme gli aspetti più belli delle festività natalizie. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. Un Natale ricco di una serie di proposte e di iniziative che riguardano spazi in tutti i campi, dal campo culturale a quello di intrattenimento, all'enogastronomia ma anche ai bambini. Insomma un Natale a dimensione famiglia per tutti i gusti che avrà la partenza il 29 con l'accensione dell'albero, un concerto gospel in piazza 20 settembre e poi avrà il suo momento di catalizzazione. Il concerto di fine anno ormai è diventato un appuntamento tradizionale con la presenza di un ospite d'eccezione come Maurizio Solieri, il già stranotto chitarrista di Vasco Rossi che ci elieterà insieme con un gruppo d'orchestra italiana. Una serie di successi importanti ci accompagnerà e ci taggetterà tra 2014 e 2015. Andrea Malacart, anche quest'anno un mercatino in piazza 20 settembre. Come sarà? Sarà più vitale perché sarà aperto anche per Capodanno perlomeno le casette enogastronomiche e non è un semplice mercatino di Natale, non è una semplice gestione delle casette ma è un progetto dietro le casette, un progetto di promozione territoriale perché noi abbiamo valutato e premiato i migliori progetti e soprattutto chi si impegna a promuovere i nostri prodotti del territorio, quindi tutti i vini e cibi della provincia di Pordenone che è una cosa alla quale ci teniamo tantissimo. Per ulteriori informazioni visitate il sito comune.pordenone.it slash natale